Sì, 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 altra vittoria, altri tre punti, altra Roma, fantastica Abbiamo giocato benissimo, una partita che secondo me non era nemmeno troppo facile Perché comunque stava in un buon periodo di forma al Parma Ma abbiamo giocato veramente, veramente bene Diciamo che il secondo tempo l'ho visto e non visto perché sul 3-0 Poi alla fine, le azioni più importanti sì, perché comunque la stavo vedendo così e così Però nel secondo tempo diciamo che non è che abbia fatto così tanto Ha tenuto il risultato, un gol sbagliato da avere tu Che poteva sicuramente segnare qualche altra azioncina Ma nel primo tempo si è vista una grandissima Roma, una Roma fantastica Un Mkhitaryan qua sopra, un Mkhitaryan qua sopra Borca Majoral che va in gol, perfetta, giornata perfetta, tre punti importantissimi Ora siamo a Parimunti del Milan, stasera una partita contro il Napoli Per il momento dovremmo essere i primi a Parimunti con il Milan Però vabbè, non facciamo Diciamo, prendiamoci questi tre punti, l'obiettivo è la Champions Stiamo andando bene, stiamo giocando bene E quella è la cosa più importante perché vincere così senza giocare bene Ci può stare una volta, due Ma poi, prima o poi comunque ci vuole il gioco E lo stiamo facendo, lo stiamo dimostrando Di saper giocare a calcio Allora, note positive, Eric Mkhitaryan Fa un gol fantastico, un gol fuori dal normale Borca Majoral sono contentissimo Fa un gol movimento, di sinistro la incrocia, molto bello E con l'assenza di Zeko comunque ci voleva una reazione così di Borca Che è comunque, diciamo, forse l'ultima occasione per lui Cioè era una dell'ultima occasione per dimostrare di che giocatore si tratta Perché la prossima tornerà Zeko Comunque riprenderà il suo spazio anche in Europa League Penso giocherà contro il Cluj Però comunque, diciamo, da titolare quando tornerà Zeko farà meno partite Perché comunque l'Europa League, sì Però in Serie A è lì che comunque si deve far vedere di più E l'ha dimostrato perché quest'oggi alla fine ha giocato bene Poi è uscito, però comunque secondo me ha giocato bene Altre note positive Diciamo tutta la squadra Abbiamo giocato benissimo I Bagnet sono fuori classe Un giocatore che secondo me diventerà fortissimo Perché è già forte adesso e diventerà fortissimo E altre note positive Prende tutta la squadra Cioè non posso dare un'insufficienza quest'oggi Non mi sento di darla a nessuno E Mkhitaryan, raga, ma quel gol che ha fatto Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Un gol al volo così? Di controbalzo? No, no, quale controbalzo? Però comunque l'ha presa benissimo Cioè prenderla così penso Boh, un altro giocatore l'avrebbe mandata veramente Dall'altra parte dello stadio Però, però grandissimo Grandissimo, grandissimo E di cosa voglio Di cos'altro Cos'altro voglio dire? Ah ecco Leonardo Spinazzola Leonardo Spinazzola Fa l'assist per Borca Majoral Prende una traversa Una partita assurda di Leonardo Una partita Cioè più che una partita Proprio Sta facendo un'annata buonissima Come l'anno scorso Ma quest'anno si sta veramente Sta veramente facendo vedere chi è Perché Secondo me è uno degli esterni più forti della Serie A Degli esterni comunque Vabbè Lui gioca diciamo Più terzino Ma la Roma gioca una difesa a tre Diciamo Uno dei migliori esterni Che fa difesa attacco Come si può dire Nel 3-5-2 Diciamo Tipo come l'Inter Magari con Young O con altra gente Secondo me lui è uno dei più forti Perché Cioè Fa la fase difensiva bene Diciamo Le basi le sa fare E In fase offensiva Va bene Che gli si può dire E Allora velocemente Allora la porta Mirante alla fine Forse manca un tiro hanno fatto O due O uno non lo so E Poca roba comunque Quindi vabbè Diciamo La sufficienza La difesa bene Voto 6-5 Abbiamo difeso bene Quelle poche volte che hanno attaccato Va benissimo Il centrocampo bene 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 L'attacco come vi ho detto Regà Spaziale Pedro comunque fa sempre il suo Non ha segnato Ma fa sempre il suo Sta sempre nel Nel vivo del gioco E È un giocatore Un fuoriclasse Un fuoriclasse Ma non dobbiamo presentarlo Pedro Perché È un fuoriclasse Un fuoriclasse da sempre E rimarrà per sempre Un fuoriclasse Perché è veramente Veramente forte E Poi Borca Maioral Ha giocato bene Ha fatto anche il gol Sono molto contento E il solito Eric Mkhitaryan Che dopo un'altra piletta Nella scorsa giornata Fa anche una doppietta In questa giornata Quindi Grandissima Roma Paolo Fonseca Scelte tutte giuste Ha giocato anche con La squadra non titolarissima Abbiamo giocato benissimo Sono contentissimo Anche perché senza zego La Roma soffre abbastanza Ma abbiamo dominato E abbiamo vinto giustamente Qui da Lesch è tutto Grazie mille a tutti per la visione Sempre e comunque Aspettate Aspettate Sempre e comunque Forza Roma Dai Roma Grazie mille a tutti per la visione Grazie mille a tutti per la visione